Sono Giuseppe Rizzini, figlio di Battista Rizzini, titolare dell'omonima azienda, fondata nel 1966. Vi parlo di questa nostra linea custom, che fa parte di un reparto speciale all'interno della nostra azienda, dove costruiamo fucili esclusivi su misura per i clienti, quindi armi realizzate con incisioni manuali, calci su misura, quindi tutto quello che il cliente richiede riusciamo a realizzarlo in questo dipartimento speciale grazie all'ausilio di operai altamente specializzati, quindi un'altissima conoscenza del prodotto. I prodotti che presentiamo sono due tipologie di fucile, uno a canna liscia ed uno a canna rigata. Con la canna liscia nella fattispecie è un calibro 12 e monta un legno molto pregiato di una qualità exhibition. Ha delle incisioni veramente pregiate, sono realizzate completamente a mano dal maestro incisore Mario Terzi, con varie tecniche, una delle quali è l'incisione a bulino, quindi un'incisione molto raffinata che permette di rendere al massimo i dettagli dei soggetti rimessi in oro poi, fatti completamente a mano. L'altro invece è un fucile a canna rigata, un Express, in calibro 8x57, quindi perfetto per la caccia al cinghiale. Quello nella sua particolarità è ovviamente l'incisione molto preziosa con rimessi in oro e il legno che viene stato realizzato da un maestro francese. Il prezzo parte da un minimo di 15.000 euro per avere un'arma completamente su misura e incisa a mano e poi si sale in base ovviamente alle specifiche richieste dal cliente. L'incisione ovviamente può avere un grosso peso per quanto riguarda il prezzo, ma anche il legno fa la sua parte, ci sono legni grado 3, diciamo che la qualità basica per quanto riguarda le zinc a store shop si può arrivare fino a un'exhibition, il prezzo cambia notevolmente. Grazie per la visione!